Ciao a tutti, sono i bisogni insoddisfatti che causano l'amore a prima vista. Pronto, signor Stanamacco? Buongiorno, sono Beatrice della banca. Ah, sì sì! Buongiorno, tutto bene? Sì sì, tutto bene. Bene bene, niente, io ho preparato tutto. Quando riesco a passare il filiale, così firma tutti i fogli. Sì, lei prende un appuntamento, così... Sì, 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 volentieri. Alla fine la polizza l'ho fatta e è testata la mamma per quel discorso che poi almeno, diciamo così, in tale età, ce li ha subito inquidabili in caso di insucessione. La mamma riuscirà a pervenire? Sì, non posso firmare io eventualmente perché muoversi magari un po'. No, magari sa cosa, vieni a metterlo, è riuscita da mettere anche lei e poi ti vido a casa e ci porta la mamma a lei per me li riporta. No, ma per andare avanti indietro non posso farlo io, intorno va bene, comunque non è meno. Eh, no. No, purtroppo no. Va bene, niente, allora mi porterò a casa, solo mi scoccio un po' ogni due volte. Eh, lo immagino perché la mamma non si può muovere. No, sì, ma è solo che è un po' lontano, no, lì, perché lei abita indietro di Lussa e arriva più lì un po'. Lui si muove, manca, esce, manca tutta la strada lì e... Ho capito. Ehm, come possiamo fare? Perché, ehm, oh che mio... Perché mi ci vorrebbe, per alcune parti, la firma di sua mamma. Lei, come la fa la firma di sua mamma? Bene, bene. Ottimo. Bene, allora, ci prendiamo l'appuntamento? Sì, allora, vediamo un po'... Ehm, non lo so, potremmo fare... Mi dica a lei come riesce con gli orari di ricorsiare degli appuntamenti. Preferisci a mattino o pomeriggio? Eh, ma io sono a scuola, quindi sotto pomeriggio... Ehm, dunque... Ehm, non lo so, se fosse... Vabbè, tanto per togliermi una cosa, oggi pomeriggio alle 14.30, potrebbe andare bene? Sì, benissimo, benissimo. Perfetto. Allora, facciamo un salto oggi e due e mezza. Sì, due e mezza. Bene. Va bene, ok. Non so se nemmeno... Tanto si vedo tutti i moduli e così fermiamo tutto, va bene? Perfetto, grazie, salve, salve, salve. Grazie amiche, arrivederci, buongiorno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao a tutti, sono i visioni insoddisfatti che causano l'amore a prima vista. Grazie a tutti.